La direzione regionale INAIL rappresentata da Rocco Mario Del Nero e il Comitato Italiano Paralimpico del Molise rappresentato dalla Presidente Donatella Perrella, questa mattina hanno sottoscritto un protocollo attuativo per l'apertura di uno sportello informativo CIP dedicato all'attività di promozione e diffusione della pratica sportiva delle persone con disabilità da lavoro. È una firma importante perché sancisce che i compagni di viaggio INAIL e CIP da oltre 60 anni vogliono proseguire in questa loro attività a favore dello sport paralimpico, degli infortunati e invalidi del lavoro e vogliono favorire al massimo la diffusione dello sport paralimpico che è uno strumento di socializzazione e di salute. L'INAIL riconosce il valore dello sport, quale strumento essenziale per il recupero delle capacità psicofisiche e dei disabili da lavoro e per il loro migliore inserimento nell'occupazione e nella vita sociale. Il lavoratore invalido o che ha avuto una malattia collegata al lavoro è il nostro punto di riferimento. Tutto gira intorno all'infortunato per quanto riguarda la missione dell'INAIL, la presa in carico globale che va dalla sostituzione del reddito, alle cure, alla riabilitazione fisica, al reinserimento lavorativo e sociale. E l'INAIL su questo negli ultimi anni si è spesa molto. Oggi consideriamo solo il reinserimento sportivo, diciamo così, sociale, ma ci sono una serie di altri strumenti rivolti ai nostri assistiti proprio per ripristinare al meglio le condizioni di vita e di lavoro. Il CIP, ente pubblico per lo sport praticato da persone disabili, ha la missione di individuare le organizzazioni sportive per disabili sul territorio nazionale e di garantire la massima diffusione dell'idea paralimpica. I testimoni, gli esempi che noi portiamo nelle scuole, le manifestazioni, gli esempi che portiamo per le famiglie, sono appunto tutte persone che hanno una gioia di vivere, che forse, che veramente è un esempio per tanti giovani di oggi che magari questa gioia non la vivono. Non lo so, forse bisogna toccare il fondo per risalire, per vivere veramente con gioia la vita che è sempre bellissima, è sempre bellissima dovrebbe rimanere. Il protocollo attuativo è il risultato di una sinergia tra enti che pongono al centro delle proprie prestazioni il lavoratore disabile da lavoro, attraverso un modello di servizi mirati, non soltanto al sostegno economico, ma soprattutto al pieno inserimento sociale dell'assistito attraverso interventi personalizzati diretti. Grazie a tutti.